Lasciate in pazza, ma mi interessa Why is this famous? Ciao e benvenuti in questo nuovo video ragazzi E che video? E che video? Non lo so Andremo nelle vie oscure dell'internet Intrinseche di cose a me sconosciute Perché andremo a mostrare ai nostri amichetti coreani TikTok Italia Intanto per mettermi un po' nella condizione di guardare TikTok Mi sono messo la visiera lì indietro così molto sgans, molto ashkechum Intanto incominciamo con le presentazioni E cominciamo da lui, dal più bello del mondo Colui che ha vinto proprio le migliori internazionali Jacob Ciao bella, Jacob Ciao, io sono pazzesco Ciao bella E direi di incominciare a entrare Io ho veramente paura di incominciare questo video ragazzi Respira Marco, respira, respira Cominciamo La home page qui mi consiglia tale Gianluca Vacchi Che è un nome che ho già sentito in realtà Chi è? Ma chi è? Io conosco, ovvc Sì, sì. È una ragazza? È una ragazza, una ragazza? Wow, è una ragazza fantastico. Do you think Lamborghini è buono? È una ragazza piena. Non è vero, è una ragazza piena. Non si può fare un po' di gara? Poi mi sembra un po' di gara. È un po' di gara. Non, non, è anche. È un po' di gara. È un po' di gara. che è davvero costruito prende un po' di posizioni e questo è tutto e gli ottene 30 milioni di milioni Elisa Maino 5.7 milioni di follower posso sentire un po' di commosione per il dress? un po' di bocca? ooooh ooooh wow wow ora siamo sentiti per la parte del dress no tatui ok dovete sapere che lo short guy c'ha questa roba che ci può essere la più sfregnola del mondo ma se c'ha un tatuaggino qua sul dittino di un centimetro lo short guy cala tutto e non gli piace più esattamente ma quanto sei cacca cazzo awesome editing yes as a pool tete cu***o well I don't know she's not my favorite me too not 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 my favorite why is she so famous tete cu***o tete cu***o something really takes your eyes you know it takes your attention now it's the moment of the most famous tiktoker italian in the world not little it's not little ok do you know him? I do know him he collaborated with a lot of famous people so he's so famous ah really? yeah he's from Italy oh he's a talent of course we do i've seen one of the most famous tiktok from our country i would know all of my age watch a few of his videos this one has 263 million views it has more views than you have on your channel yes oh my god oh i can see why this is funny he's funny it's the face yeah it's his face and his lips do you like him? yeah i like him for the first views you know like few things it could be funny well after a few videos you know like it's getting allora lui mi sta simpaticissimo cioè mi sembra proprio il ragazzo più bravo del mondo vorrei che fosse il mio migliore amico però mi sembra che il content sia un po' tutto cioè un po' sempre la stessa roba interrompiamo ora il video per una breve lezione di vita sono bello atletico intelligente quattro scimmiette saltano sul letto una cade giù e si rompe il cervelletto che? è morta? eppure rapata sprella non mi dagnava ancora di nessuna attenzione ormai le ho provate tutte è giunto il momento di chiedere il suo aiuto marco steppanoches il più grande esperto di fagiana del mondo ciao curriculum per favore doppia laurea in giurisprudenza navale che è un premio oscar per l'unificazione delle due coree ma signor shurkai ma questo mi pare un curriculum no signor de panocchis cosa devo fare? recenti studi della nasa hanno dimostrato che per conquistare la fagiana serve semplicemente il six pack si compri quelle cosine lì protein shake si fa due esercizi fagiana ma sono tirchio a schifo ma nessun problema signor shurkai risolvo tutto io non è che sono il migliore esperto di fagiana del mondo così a casalazzo no c'è una ragione perché so tutto mi va su letyshop signor shurkai che è un servizio di cashback quindi i suoi soldi parte e le ritornano indietro quindi un servizio a prova di tirchio da schifo come lei una volta entrato ci sono migliaia di siti da cui scegliere vestiti paperelle e anche sicuramente protein shake va lì clicca si prende il suo protein shake si fa due esercizietti e niente il six pack fidanzate fagiana a go go e già che c'è signor shurkai per favore si compri anche due vestiti su shank e c'è il cash pack anche lì perché si veste come una marmotta del bremonte che fa acqua gym ok comprato qualche giorno dopo allora signor shurkai come sta andando il suo allenamento il protein shake ha funzionato grazie mille signor De Panocchis non ringrazimi ringrazio Letyshops e anche voi se volete cambiare la vostra vita tutti i link saranno qui sotto in descrizione continuiamo con il video oh ok ragazzi oh finalmente mi ha consigliato una roba che mi interessa perché questi sembra che ballano urban theory 13 milioni di follower ovvero lanc***y oh 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 AAAAAAAA Si, no, this is... Oh, this finally makes sense This is content The girl was bad The girl was dangerous Oh! Oh, finally, someone I like Oh, no, 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 no It took like 10 people Esploriamo un po' la home di TikTok Italia Chiara Ferrani chiaramente cia TikTok Vediamo un po' cosa pubblica su TikTok Maciao Maciao Oh, this baby kind of looks like an old person And it's so cute This, this eggie, oat is more expensive than your oat Oh, 맞아, 맞아 Maybe more expensive myself in there Showing off that she has money Wow, room 진짜 많다 Your hotel room, yeah Yeah, room 진짜 많 She's just pretty and rich That's her concept Do you agree? Like, putting, like, very young kids on, like, your social media I will not do it all the time If you can, like, give a nice message Like, a positive message For example, I am, like, gay, right? Maybe I can give, like, a positive message Like, I can raise a kid Even if I'm, you know, a gay couple Passiamo alla mia TikToker preferita in assoluto I would say The only thing that I really if I think of TikTok, who also think of the... Does, like a YouTube video Do you believe that? She just jumped in? How dare you! Wow, you can really dance Wow, you can really dance Is she comedy? Wow, she's funny She has talent E' molto utile E' un talento E' un talento Lasciate in pazza Maria Teresa Per ora è quella che mi è piaciuta di più comunque Maria Teresa C'è un content di un certo livello Guardiamo anche un pochino di Pannocchie però adesso Mi esce tale E' Valerio Matsei C'è un tipo di pibe C'è un teneider? Credo che è C'è un teneider 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 Ma se mi piace, io ando a la giù C'è un teneider 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 Sì Grazie a tutti.